Un servizio di pubblica utilità al centro di un grande impegno per il sociale sono i presupposti che permettono di restituire ai cittadini il Parco Michetti di Pescara, un'area verde che occupa lo spazio urbano compreso tra il palazzo che ospita la prefettura e l'amministrazione provinciale, l'edificio noto come il Quadrifoglio ed il Palazzo di Città. La provincia proprietaria del sito adibito a Parco da molti anni in questi giorni ne ha infatti affidato la gestione al Consorzio Impresa e Sociale allo scopo di permettere l'immediata riapertura al pubblico e allo stesso tempo procedere alla manutenzione e alla pulizia ordinaria. I ragazzi impegnati nelle cooperative La Nave Aurora e Accademia Bianca Azzurra e Il Sorriso, alcune di queste già coinvolte in passato in attività di pubblico interesse con il Comune, potranno anche realizzarvi un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande. Devo anche dire e chiedere scusa a questo quartiere diciamo così perché non siamo riusciti e non avevamo la possibilità e non abbiamo la possibilità di manutentare e gestire questo parco Michetti che è nel centro della città. Per fortuna Impresa e Sociale con collaborazione con la cooperativa La Nave ridaranno vita a questo parco. Sono venuti in soccorso e ci hanno dato, hanno risposto al nostro avviso e ci hanno dato questa grande mano. Tutto è in funzione dell'aspetto sociale, tutto è in funzione di un progetto per quanto riguarda noi della cooperativa sociale Aurora Valore e Sapore è partito dieci anni fa nel settore ristorante e quindi ristorazione, catering in genere. Adesso con il consorzio stiamo cercando di fare rete, di ampliare diciamo anche la nostra struttura, di ampliare anche le nostre competenze grazie a altre cooperative e associazioni. Quello del parco Michetti adesso è un'occasione in più, una chance in più che la provincia di Pescara che insieme al comune ci stanno dando, una nuova opportunità di inserimento. Sicuramente qui a regime contiamo di inserire almeno quattro ragazzi con un tutor in partenza, poi vediamo se riusciamo anche a realizzare il chioschetto come ci è stato concesso e i posti di lavoro saranno ulteriori. Vedremo.